Era stato aggredito da due bulli preso a pugni in faccia alle scale mobili del parcheggio Pietri, vittima dell'episodio un giovane disabile non vedente. Adesso la polizia di Stato ha individuato gli autori del vile pestaggio. I fatti risalgono allo scorso 3 settembre. Il ragazzo si trovava assieme ad altri coetanei quando è stato avvicinato da un gruppo di minorenni. In particolare due di questi, con fare arrogante, hanno iniziato a frugare nello zaino del ragazzo alla ricerca di sigarette. Dopo le proteste del proprietario dello zainetto è intervenuta la vittima a difesa dell'amico, scatenando la reazione violenta dei due aggressori che improvvisamente hanno sferrato pugni al volto del sedicenne, che è stato colpito anche con decalci sulle gambe. Il ragazzo ha così riportato echimusi sul volto e addirittura la rottura di un dente. Immediato l'intervento delle volanti della questura di Arezzo, che si sono messe alla ricerca degli aggressori che nel frattempo si erano dati alla fuga. Le testimonianze raccolte dagli agenti delle volanti e successivamente dalla squadra mobile hanno consentito di risalire all'identità dei due responsabili. Si tratta di un 17enne e un 16enne, entrambi denunciati per lesioni personali e aggravate. Questa mattina, coordinati dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Firenze, gli agenti della mobile hanno eseguito i decreti di perquisizione domiciliare e messi a carico degli indagati, a seguito dei quali sono stati ritrovati e sequestrati i telefoni cellulari.